Un saluto veramente a tutti i tesserati del CNA che possono essere interessati a questo intervento, intervento che non è inedito, ho già avuto modo di proporlo in altre situazioni, ma a maggior ragione ringrazio il CNA per questa opportunità di permettermi di riproporlo in un contesto più istituzionale. Parliamo di settore giovanile, parliamo di organizzazione di programmazione come potete vedere, si tratta semplicemente di quello che è un po' lo stato dell'arte per quanto riguarda il nostro settore giovanile, si tratta di, è la raccolta delle idee, dei pensieri di quello che facciamo, di quello che proviamo a fare, di quello che vorremmo riuscire a fare con più continuità o con più efficacia. È semplicemente il risultato di anni di confronto sia interno con gli allenatori con i quali ho avuto la fortuna di lavorare in questi anni, ma anche all'esterno tutte le volte che c'è stata la possibilità di confrontarsi con colleghi su questi temi. Ripeto, quello che è in questo momento è sempre in evoluzione e mi auguro che tra sei mesi, tra un anno, se avremo occasione di riparlare delle stesse cose, spero che avremo delle cose nuove e migliori perché vuol dire che stiamo facendo secondo me meglio il nostro lavoro. Questo è per chiarire qual è il compito del nostro settore giovanile. Il nostro settore giovanile esiste in funzione della nostra prima squadra che è una prima squadra professionistica. Il primo obiettivo minimo da garantire è quello di fare in modo che la prima squadra sia messa nelle condizioni di allenarsi in maniera il più possibile efficace sempre e comunque. Questo significa che quando i ragazzi più maturi, più grandi del settore giovanile sono coinvolti con la prima squadra per gli allenamenti, per scelta o per necessità quando ci sono situazioni di infortunio o altro, diciamo che è necessario che i ragazzi siano in grado di preggere l'allenamento sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista fisico, che dal punto di vista mentale, dove mentale intendiamo sia dal punto di vista dell'atteggiamento, dell'attenzione, della concentrazione, ma anche della comprensione di quello che sta succedendo intorno a loro durante l'allenamento. Invece l'obiettivo, quello più alto, più grande del settore giovanile, è quello di provare a sviluppare dei giocatori, ad aiutare dei ragazzi a diventare giocatori professionisti, che possono essere di conseguenza utili a pieno titolo, quindi in quanto professionisti per la nostra prima squadra o comunque che possano ambire a una carriera da giocatore professionista. È chiaro che per chi di voi ha esperienza in questo ambito è evidente che questi due obiettivi possono sembrare, possono essere in alcune situazioni leggermente in conflitto tra di loro e penso che sia importante e necessario che ci sia senso di responsabilità da parte di chi lavora sia nel settore giovanile che in prima squadra per fare in modo che questi due obiettivi si possono coniugare nel migliore dei modi. La responsabilità è un'idea che penso che mi sentirete esprimere ripetutamente durante questo intervento, perché penso sia inevitabile ragionando sull'attività che facciamo su ragazzi giovani. Questo è un breve sommario dei punti che andremo a toccare durante l'intervento. Sentirete parlare spesso di ragionare sul talento e, come vi ho detto prima, sul discorso anche della responsabilità. Adesso non sto a elencarvi questi punti, li andiamo a sviluppare con le prossime slide. Penso che sia importante, proprio concettualmente, esplicitare quelle che dal mio punto di vista sono le differenze per quanto riguarda l'attività giovanile e l'attività senior. Diciamo che purtroppo siamo abituati recentemente al fatto che per quanto riguarda squadre senior, attività senior, ci siano molte situazioni in cui la programmazione è di fatto una programmazione a breve termine, limitata ad esempio ad una sola stagione. È chiaro che è evidente che le realtà più virtuose sono quelle che anche a livello senior riescono a ragionare e a programmare a lungo termine. Diciamo che se questa cosa a livello senior può reggere in entrambe le modalità, a livello giovanile l'unico modo per farlo in modo efficace è di avere la possibilità di programmare a lungo termine. Ritengo che qualsiasi altra modalità alla fine si trasformi in realtà anziché in una risorsa, in uno spreco di risorse per la società. Non è tanto bello da dire ma su questa cosa sono molto convinto. Occorre avere la possibilità, la forza e la volontà di fare programmi a lungo termine. Allora in questo caso il settore giovanile può essere una risorsa secondo me molto importante per qualsiasi società. Un'altra differenza dal mio punto di vista è che mentre naturalmente per quanto riguarda la programmazione o la periodizzazione, in questo caso entriamo un po' più nel merito del programma tecnico-tattico e fisico, dicevo la programmazione a livello senior, è chiaramente in funzione degli appuntamenti degli eventi agonistici, il campionato, il play-off, le coppe. Mentre l'aspetto dello sviluppo individuale del giocatore c'è, è auspicabile che ci sia, ma necessariamente passa un po' in secondo piano perché è nelle cose, è evidente che sia così, ecco a livello giovanile questa cosa è necessariamente ribaltata. Lo sviluppo individuale del giocatore è prioritario rispetto a qualsiasi altra cosa. Poi come vedremo, ci ritorneremo, anche gli appuntamenti agonistici sono importanti perché in quanto possono e devono rappresentare momenti di crescita per i ragazzi, quindi momenti a loro volta formativi, però, quindi non è che non se ne tenga conto, però sicuramente, ripeto, lo sviluppo individuale è la bussola che ci guida nel programmare l'attività per quanto riguarda il settore giovanile. Come ultima considerazione, anche qui se è evidente, se è noto che a livello senior, diciamo dal punto di vista tecnico, tattico, nel mettere in campo una squadra, nell'organizzare la squadra, cerchiamo sempre di esaltare i nostri punti di forza e di in qualche modo provare a limitare o a nascondere i nostri punti deboli. In realtà, a livello giovanile, anche qui avviene un pochino il contrario. Cerco di spiegarmi meglio. Io penso che noi insegniamo a un ragazzo a fare una cosa, che può essere un movimento, un riconosciuto, una situazione, una cosa, reagire a una situazione. Allora, un conto è insegnarglielo, un conto è che lui apprenda questa cosa, impari a farla, ma l'ultimo passaggio, quello più difficile, quello più importante, è che lui poi acquisisca in questa cosa. Quindi si senta sicuro nel farla anche, ad esempio, nel momento della partita, quando chiaramente aumenta un po' il carico, aumenta un po' la pressione. A nessuno piace fare brutta figura, quindi tutti tendenzialmente evitiamo di fare le cose nelle quali non ci sentiamo sicuri. Ecco, se questa cosa è scontata, normale, logica, a livello senior, come dicevamo prima, a livello giovanile invece dobbiamo trovare delle strategie per fare in modo che i ragazzi si sentano di essere messi nelle condizioni di trovare a fare cose nuove, in modo che man mano acquisiscano progressivamente fiducia nel farle. Detto in termini molto banali, molto semplici, dobbiamo fare in modo che non abbiano progetti a tagliare. Come vi dicevo, parleremo molto di talento, perché la nostra attività, alla base della nostra attività c'è la ricerca del talento. Noi lavoriamo sul talento, cerchiamo il talento e cerchiamo di sviluppare il talento. Tra l'altro, apro una parentesi un po' così, che fa riferimento al momento contingente, se c'è un problema nel nostro movimento in questo periodo è che abbiamo un po' rinunciato a cercare il talento, cioè ci accontentiamo un po' dei ragazzi che si presentano in palestra per fare attività e abbiamo un po' rinunciato purtroppo ad andare a cercare al di fuori delle nostre palestre i ragazzi che invece avrebbero caratteristiche adatte per eccellere nel nostro sport. Questa è una cosa che in qualche modo forse andrebbe recuperata, ma diciamo che non è argomento di questo intervento. Nel parlare di talento, il primo passo è di essere in grado di riconoscerlo. Non è sempre facile, perché parlando di ragazzi giovani è nell'esperienza comune di tutti noi il fatto di imbatterci nei ragazzi che possono avere sviluppo, di essere a uno stadio diverso del proprio sviluppo. Tutti parliamo di ragazzi precoci, tutti abbiamo idea di che cos'è invece, abbiamo l'idea di un ragazzo che magari è più acerbo rispetto ad altri. diciamo che questa cosa può essere sia dal punto di vista biologico, che ci sono ragazzi che fisicamente maturano prima, ma questa precocità, questo essere verti, diciamo così, può fare riferimento anche in maniera più semplice all'esposizione alla pallacanestro. Cioè ci sono ragazzi che si avvicinano prima alla pallacanestro e quindi hanno modo di imparare, di migliorare prima di altri a fare questa attività. Ci sono ragazzi invece che magari arrivano più tardi alla pallacanestro con tutta una serie di conseguenze delle quali noi inevitabilmente dobbiamo tenere conto. qui vi ho riportato una citazione, troverete parecchie perché mi piacciono molto, perché penso che aiutino molto, di Enrico Tecman che è un allenatore finlandese che ha lavorato un po' in tutta Europa ed è che possiamo definire proprio uno studioso del gioco e in particolare della didattica legata alla pallacanestro. E questi sono i suoi suggerimenti per un ipotetico ragazzo che vuole diventare un giocatore importante e chiaramente avere i genitori giusti, avere in questo caso una base genetica che predisponga alla pratica della pallacanestro sicuramente aiuta. Crescere nell'ambiente giusto è quello un po' che ho cercato di dirvi anche prima, è chiaro che, vi faccio l'esempio, tutti penso che abbiamo l'idea, abbiamo presente che tanti ragazzi che eccellono sia a livello giovanile ma poi anche nei campionati senior, hanno diciamo genitori che hanno praticato pallacanestro, questo significa che banalmente sono stati esposti, hanno visto pallacanestro fin da piccoli e quindi anche senza, anche magari prima quella che cominciassero a praticarla, hanno cominciato a conoscerla e a riconoscerla e questo sicuramente è un grosso vantaggio e chiaramente poi di conseguenza anche comunque iniziare la pratica precocemente a livello giovanile e inevitabilmente lavorare, lavorare molto per diventare dei buoni giocatori. Noi siamo diciamo che cercando il talento ci confrontiamo costantemente con il tentativo di reclutare i ragazzi che riteniamo più interessanti, più funzionali al tipo di attività che facciamo. Allora, noi per quanto ci riguarda, diciamo, cerchiamo di reclutare a livello locale, di dare opportunità a livello locale a tutti quei ragazzi che o pensiamo possono avere un'effettiva prospettiva professionistica o pensiamo che possano, diciamo così, da una parte aiutare i gruppi a migliorare e dall'altra comunque fare il raggiovamento dal fare attività con i nostri giocatori. Cerco di spiegarmi meglio. Prima abbiamo parlato di ragazzi precoci. I ragazzi precoci, cioè quelli che prima di altri riescono a essere performanti giocando a palla a canestro, hanno, diciamo che in maniera semplicistica e superficiale potremmo dire che aiutano a vincere le partite, in realtà io penso che avere dei ragazzi che siano in grado di esprimere delle prestazioni già di un certo livello aiutino a costruire dei gruppi che siano competitivi. competitivi faccio riferimento più all'allenamento che non tanto alla partita, cioè che permettono di costruire dei contesti di allenamento che siano stimolanti e quindi che siano formativi per sé e per i compagni. Questo penso che sia molto importante. Poi è chiaro che dobbiamo cercare di reclutare ragazzi che abbiano anche a nostro avviso una prospettiva a livello professionistico. Questo non sempre è possibile farlo a livello territoriale ed è il motivo per cui allarghiamo la nostra cerca di ragazzi di prospettiva su tutto il territorio nazionale. Ultimamente noi come anche tante altre realtà, tante altre società ci siamo rivolti, abbiamo allargato ancora di più l'ambito dello scouting e del reclutamento a livello internazionale su ragazzi stranieri e questo comporta quindi avere una foresteria, ospitare dei ragazzi, ma fondamentalmente questo diciamo che è l'impegno logistico, ma quello che dal mio punto di vista è più importante, comporta il fatto di spostare dei ragazzi da casa, dalle loro famiglie e come dicevamo magari anche dall'estero. Ecco su questo anche qui di nuovo torna l'idea di responsabilità perché penso che sia importante, vi dico quello che è la nostra idea, che è la mia idea, penso che sia importante avere chiaro che nel momento in cui si recluta un ragazzo, non si recluta un ragazzo perché pensiamo che possa in qualche modo rendere più competitivo un gruppo giovanile, una squadra giovanile, ma perché pensiamo e dobbiamo avere sufficienti diciamo certezze che questo ragazzo possa possa avere effettivamente uno sviluppo livello professionale. Allora, è vero che con i ragazzi europei questa precauzione potrebbe essere un pochino meno, diciamo, un pochino meno pressante perché per quello che è la mia, per quella che è la mia esperienza ormai, diciamo che le differenze tra i ragazzi europei sono veramente, a parte la lingua, cominciano ad essere veramente sempre più, sempre più sottili e quindi se reclutare un ragazzo dall'estero, diciamo, se fatto nel modo giusto, può anche semplicemente voler dire offrirgli un'opportunità per fare un'esperienza di vita, se fatta, ripeto, seguendo tutti i criteri di tutela del ragazzo e quindi una specie di Erasmus per uno studente atleta che faccia attività sportiva. Spero che i ragazzi invece che vengono da più lontano, dove le differenze culturali e sociali sono più importanti, penso che questa tutela, questa cautela debba essere massima, perché veramente ci prendiamo, ci facciamo carico di una responsabilità in termini di, in termini di, anche di aspettative, in termini di straticamento di un ragazzo che non possiamo, non vogliamo ignorare. Penso che qui l'idea di responsabilità deve essere, deve essere portata al massimo livello. Abbiamo cominciato a parlare di talento e io penso che nella testa di ognuno di noi ci sia un'idea di talento, nel momento in cui però cerchiamo di definirla con precisione, nel momento in cui cerchiamo di rispondere alla domanda cos'è il talento, forse, questo è stato così per me, non è così semplice dare una risposta chiara, dare una risposta precisa. E invece penso che sia importante ragionare su questo aspetto e approfondire questo aspetto, cioè cercare di dare una descrizione, una definizione di quello che è talento, perché è la base per poi iniziare il nostro lavoro nei termini di quali abbiamo appena parlato. Ci viene incontro Velasco dicendoci che il talento è legato alla capacità di apprendimento. Questo secondo me già è un passo, diciamo un concetto importante, un passo importante che ci avvicina, che ci aiuta a definire che cos'è il talento. Anni fa con Lugino Sepulcri, diciamo che Gigi Sepulcri è un preparatore fisico che è dottore in attività, ma secondo me è stato veramente uno dei preparatori che hanno dato un impulso importantissimo al dare sempre maggiore importanza alla preparazione fisica nella nostra attività, ma soprattutto hanno dato importanza, uno, al concetto di integrazione, che la preparazione fisica non è qualcosa di distinto, disgiunto dalla preparazione tecnico-tattica, ma è qualcosa che va integrato. Il Luigi Sepulcri è stato uno dei primi, assieme ad altri, a spingere sulla formazione. è stato una persona che hanno fatto in modo che all'interno del SMA, oltre alla formazione tecnico-tattica per gli allenatori, si cominciasse a strutturare un percorso per la formazione anche dei preparatori fisici. E assieme a lui abbiamo cercato di chiarirci le idee, perché ci siamo trovati in questa difficoltà di definire che cos'è il talento, e allora ci siamo dati queste risposte. Come potete leggere, non sto a ripetere, sicuramente è nella percezione di tutti che un giocatore di talento è un giocatore che ha un controllo della tecnica, ma anche del corpo, ma anche delle situazioni superiore rispetto alla media. Di nuovo, apprendimento. Apprendimento è, in termini importanti, il consolidamento di apprendimento, un po' quello che ho cercato di dirvi prima. I ragazzi imparano a fare qualcosa, riescono a farlo con una certa efficacia, consolidano. C'è quella cosa, quel movimento, quella che conosce una situazione, diventa parte consolidata del proprio bagaglio. In più, la capacità di reggere dei carichi. Perché se il controllo della tecnica superiore alla media in età prepolce può essere un segnale di talento cui il talento necessariamente deve essere sviluppato, deve essere allenato e per farlo deve essere necessariamente stimolato con dei carichi di lavoro. I carichi di lavoro sono di nuovo, riguardano l'aspetto fisico, riguardano l'aspetto di attenzione e, quando parliamo del comportamentale, riguardano anche la disciplina. Disciplina per sfruttare un concetto che Ettore Messina ha esposto di recente, cioè il concetto di autoesigenza. Diciamo che il talento viene definito anche dalla capacità di un atleta di reggere tutti quei carichi che gli permettono di evolversi e di svilupparsi come giocatori di pallacanestra. In più, parlando di ragazzi giovani, quindi non solo sportivi ma anche studenti, è chiaro che un carico ulteriore diventa quello scolastico. Quindi, anche la capacità di conciliare l'attività sportiva, quindi i carichi che ne comporta, con l'attività scolastica, quindi con i carichi ulteriori che ne comporta, fa parte di quello che noi possiamo considerare come talento, la capacità di portare avanti impegni, la capacità di farsi carico di attività impegnative. Legato a questo, questo è un concetto che veramente mi ha acceso una lampadina quando Gigi Sepulchi me ne ha parlato per la prima volta, che è quello di considerare i picchi di prestazione. Che cosa significa? Se un giocatore ha un picco di prestazione, cioè fa una cosa che magari fino a quel momento non era riuscito a fare o anche solo sporadicamente ha cosiddette situazioni, cioè riesce ad avere una prestazione eccellente, particolare in qualsiasi senso, significa che quella prestazione è nelle sue capacità, è nelle sue potenzialità. allora uno dei nostri lavori, uno dei nostri compiti è quello di trasformare questo picco di prestazione in un rendimento, perché se è nelle capacità del giocatore fare quella cosa, ottenere quella prestazione, allora dobbiamo aiutarlo a raggiungere quel livello di prestazione con più continuità, e quindi, ripeto, farlo diventare un rendimento costante. Questo secondo me è un cosiddetto che magari può essere per qualcuno scontato, ma ripeto, nel momento in cui Gigi Sepulchi ci ha fatto riflettere, veramente mi ha acceso la luce su tanti aspetti della nostra attività. Abbiamo già affrontato un po' il concetto di ricerca del talento e di selezione, cioè in pratica quali giocatori cerchiamo di reclutare e con quali criteri poi cerchiamo di comporre i nostri gruppi e le nostre squadre giovanili. Isis è un allenatore turco di origine cosiddetta penso, che ha lavorato per la federazione turca per alcuni anni, è stato anche responsabile del programma giovanile della federazione turca, nel periodo in cui hanno formato, hanno prodotto tanti tanti giocatori di alto livello, e questi sono i criteri che lui aveva dato parlando di selezione del talento. Chiaramente è utile individuare i giocatori di talento in maniera più precoce possibile, è importante avere un'idea di quello che può essere lo sviluppo finale per ogni giocatore, cioè che tipo di giocatore potrà essere da adulto, da senior, che tipo di caratteristiche potrà avere in modo da poter programmare l'attività per il giocatore, e cercare di selezionare i giocatori che siano adatti alla palacanestra moderna, che adesso non spetta a me entrare nel merito, non è questo l'ambito, però insomma una palacanestra dove la distinzione dei ruoli, mettiamolo così, sta diventando sempre un po' più fluida, perché tanti giocatori sanno fare tante cose, tante cose diverse, ma soprattutto la capacità di un giocatore di stare in un contesto di squadra, perché il nostro è uno sport di squadra, questo è un concetto non scontato, forse neanche così valido in tutte le realtà, in tutti i contesti, ma dal mio punto di vista rimane un criterio molto importante per tenere in considerazione. Allora, dichiaro immediatamente, per poter procedere, che nel ragionamento, dal mio punto di vista senza... senza una risposta univoca tra privilegiare, ricercare giocatori specializzati o giocatori versatili, quindi giocatori che sappiano fare magari bene tante cose, nessuna cosa benissimo, o giocatori che magari sappiano fare meno cose, ma quelle poche benissimo, per quello che mi riguarda io continuo a privilegiare l'idea di sviluppare e di formare dei giocatori che siano versatili, quantomeno a livello giovanile. Poi sono consapevole che prima o poi un processo di specializzazione è inevitabile e deve essere avviato, ma io penso che considerando che l'attività giovanile in questo momento arriva nella migliore delle ipotesi a 18, periodicamente 19 anni, qualche volta 17, perché in realtà dipende da quando poi un giocatore comincia ad abbracciare in maniera sempre più importante, sempre più coinvolgente il contesto senior. Penso che fino a quella fascia d'età comunque l'idea di avere, pensare i giocatori come giocatori versatili, cioè che cerchino costantemente di ampliare il proprio bagaglio di strumenti, ritengo che sia comunque prioritario. E di conseguenza anche sul concetto di ruoli è un concetto che mi lascia a livello giovanile abbastanza freddo, abbastanza indifferente, insomma sul fatto di definire ruoli tecnici intendo, per me, per la guardia e così via, per quanto riguarda i ragazzi delle giovanili. Quindi veramente mi appassiona molto di più invece l'idea di aiutare i ragazzi ad aggiungere continuamente armi a proprio strumenti, armi a proprio bagaglio. Allo stesso modo, perché penso che sia, parlando di sviluppo del talento, penso che confrontarsi con il concetto di vittoria sconfitta e di ricerca della vittoria sia inevitabile. Si è sentito per tanto tempo ragionare sul fatto se a livello giovanile sia più importante privilegiare chi gioca per vincere, come se c'è qualcuno che gioca per vincere in questo modo la questione. Perché io penso che i ragazzi debbano comunque costantemente avere l'idea che si gioca per vincere, cioè che debbano essere competitivi. Poi magari bisogna aiutarti ad estendere, ad espandere il concetto di vittoria perché la vittoria non è solo quella nella singola partita, ma la vittoria è quella, diciamo, alla fine di quello che si è riuscito a fare, alla fine di una stagione, la vittoria è quello che riesco a fare nei confronti di me stesso per superare i miei limiti, che sembrano un po' frasi fatte, banalità, ma in realtà penso che sia quello invece con cui ci confrontiamo tutti i giorni. Comunque ripeto, giocare per vincere o giocare per insegnare penso che sia un falso problema, penso che il problema vero, tornando al discorso di prima, sia quando per provare a vincere noi rinunciamo a promuovere il talento. Ecco questo penso che sia la cosa alla quale prestare attenzione. promuovere il talento è quello che abbiamo detto prima, riconoscerlo, svilupparlo, aiutarlo, proteggerlo, perché se il talento è precoce non ha bisogno della nostra protezione, ha bisogno più della nostra guida, quando invece il talento è acerbo ha bisogno un po' di più del nostro sostegno e della nostra protezione e del nostro aiuto, cercherò di essere un po' più chiaro anche su questo aspetto. Legato a questo, di conseguenza, penso che è un concetto che non viene mai preso abbastanza in considerazione, sia quello, diciamo così, del problem solving, nel senso che, allora, possiamo definire l'apprendimento come la capacità di affrontare dei problemi e di risolverli. In campo dobbiamo affrontare dei problemi, come battere il nostro difensore, come non farci battere il nostro avversario, come farlo individualmente, come farlo di squadra. Di conseguenza, mettiamola così, io penso che sia importante che i problemi sul campo li risolvano i ragazzi, non noi. Questo secondo me è un concetto importante che va al di là del concetto di vittoria e di sconfitta. Perché dico questo? Perché anche qui a livello giovanile si discute sull'utilizzo o meno della tattica. La tattica è uno strumento e, come tutti gli strumenti, noi dobbiamo cercare di utilizzarla nel modo più corretto, coerentemente con i nostri obiettivi. Se i nostri obiettivi sono quelli di aiutare i nostri giocatori, i nostri ragazzi a migliorare, di conseguenza anche la tattica può avere un'utilità e può avere uno spazio. E' chiaro che se, ripeto, la tattica ci serve per evitare ai nostri ragazzi dei problemi, di dover affrontare dei problemi, se la tattica ci serve per, come dicevamo prima, nascondere i nostri limiti, allora dal mio punto di vista non ci aiuta perché fa sì che siamo noi allenatori che risolviamo i problemi al posto dei ragazzi e quindi diventa controproducente. Se la tattica è la tattica che i ragazzi individualmente, come squadra, sviluppano e autonomamente aiutati, seguiti, con suggerimenti nostri, ma, diciamo, la tattica è quello che loro sviluppano per diventare sempre passati nei termini più furbi in campo, cioè furbi in senso positivo, nel senso di riconoscere le situazioni, di capire cosa sta succedendo e di capire come superare un problema, allora la tattica diventa importante. Ecco, diciamo che, se vogliamo semplificare in maniera forse non corretta, sì per quanto riguarda la tattica individuale, un po' no per quanto riguarda la tattica di squadra, ripeto, quando la tattica di squadra è l'artificio che l'allenatore utilizza per risolvere i problemi al posto della squadra o al posto dei giocatori. Io penso che il nostro compito, da questo punto di vista, sia anche quello di fornire strumenti per risolvere i problemi, ma soprattutto puoi ritorvenire ai ragazzi. La nostra capacità deve consistere nel fatto di, momento dopo momento, riuscire a mettere l'ostacolo all'altezza giusta. Cerco di chiarirmi meglio, di essere più chiari. Se parte del nostro lavoro consiste nel proporre continuamente ai ragazzi dei problemi da risolvere, tecnici, tattici, e allora la nostra abilità consiste nel proporre, momento dopo momento, il problema giusto nel modo giusto. Diciamo che parliamo sempre di progressione didattica. La progressione didattica non è solo, dal mio punto di vista, quella tecnica, cioè come si passa dal tiro piazzato al tiro in sospensione. La progressione didattica è anche la progressione delle difficoltà e quindi, ripeto, dei problemi ai quali esponiamo i nostri giocatori. Dobbiamo essere bravi a sottoporre continuamente degli stimoli, dei problemi, degli ostacoli da superare, consapevoli che gli ostacoli troppo semplici da superare dopo un po' portano alla noia e quindi sono demotivanti. Gli ostacoli troppo complessi, troppo difficili da superare sono frustranti perché non possono essere superati e quindi anche in questo caso sono demotivanti. Quello che noi dobbiamo riuscire a fare momento dopo momento è proporre a loro delle situazioni, dei problemi, delle difficoltà che siano superabili, sì, ma con impegno. Superabili sì, magari non è il primo tentativo, ma questo fa parte, l'apprendimento per prove ed errori è fondamentale nella nostra attività. E quindi, ne abbiamo già parlato prima, è importante che non abbiano cosa di sbagliare, è importante che abbiano la volontà, nel momento in cui affrontano un problema nuovo, di provare a superarlo, e che abbiano la fiducia del fatto che se anche non lo superano al primo tentativo avranno un'altra opportunità per provare a superarlo e che magari dovremmo prepararci meglio per provare a superarlo, ma avremo questa opportunità. Secondo me questo è molto importante. Diciamo che avere l'idea che noi siamo lì per aiutarli, ma quello che succede dipende da loro, secondo me è una cosa alla quale dobbiamo riferirci costantemente. Legato anche qui, cercando di proseguire con il ragionamento, Beppe Barbara mi disse questa cosa al telefono, una volta che anche questa mi è rimasta impressa. Cioè che il talento più grande mangia quello più piccolo. Perché vi ho riportato questa cosa? Perché, vi ho detto prima, noi nei nostri gruppi possiamo avere giocatori di talento, possiamo avere giocatori magari non così tanto di prospettiva, ma che sono efficaci, che ci aiutano perché alzano il livello, fanno diventare più competitivo il gruppo, il contesto di allenamento. Ecco, diciamo che nel comporre un gruppo, facciamo un caso ipotetico. Io penso che se avessimo la possibilità di reclutare 12 giocatori per comporre una squadra giovanile, tutti di grandissimo talento e di grandissima prospettiva, sicuramente questo ci aiuterebbe negli allenamenti, perché renderebbe l'allenamento di livello più alto. Sicuramente ci gratificherebbe come allenatori, ma altrettanto sicuramente farebbe un torto a qualcuno di queste ragazze. Però non penso che noi siamo in grado di dare a tutti le stesse opportunità. Se a un certo punto c'è qualcuno che viene penalizzato, che viene sacrificato, penso che sia inevitabile. Secondo me, noi dobbiamo avere la stessa attenzione a tutti i nostri ragazzi, e questo riguarda soprattutto l'attenzione in allenamento, l'attenzione ad aiutarli e farli migliorare. Temo, ma sono abbastanza sicuro, che non possiamo, ma per essere onesti, non vogliamo dare le stesse opportunità a tutti, semplicemente perché non è possibile dare le stesse opportunità a tutti. Secondo me serve onestà intellettuale nel riconoscere questa cosa, e di conseguenza anche la composizione delle squadre, anche la selezione dei ragazzi deve tenerne inevitabilmente conto. Abbiamo detto, questo perché appunto se vogliamo tutelare il talento, dobbiamo essere sicuri che il talento, cioè i ragazzi di maggior talento, abbiano le opportunità che sono necessarie per esprimere il proprio talento, per sviluppare il proprio talento. E' chiaro che essere in un ambiente, in un contesto stimolante, importante, aiuta, e anche avere esperienze di successo, quello che dicevamo prima, vincere le partite, o comunque avere anche individualmente delle piccole esperienze di successo, cioè sento, mi sento adeguato, mi sento capace di fare qualche cosa, vedo che sto migliorando, sono consapevole del fatto che sto facendo dei passi in avanti, cioè le esperienze di successo sono indispensabili nel processo di sviluppo di un giocatore. E allo stesso modo, parlando di sistema di gioco, perché qualche volta anche qui si fa, secondo me è un po' di... inutilmente, insomma, ci si confronta, se è meglio a livello giovanile giocare in un modo piuttosto in un lato, la zona, i giochi, eccetera. Anche qui penso che sia un po' di supervene, insomma, il sistema di gioco, in attacco, in difesa, è uno strumento che noi abbiamo, è uno strumento che è a nostra disposizione. Se noi abbiamo chiari gli obiettivi, sapremo momento dopo momento qual è lo strumento più utile, più adatto per perseguire i nostri obiettivi. L'importante è appunto che abbiamo chiaro l'obiettivo, se l'obiettivo è quello di sviluppare i giocatori in generale, ma in particolare prestare attenzione al talento e cercare di dare le giuste opportunità ai giocatori di talento, tutto il resto, secondo me, viene di conseguenza. Francesco Puzzolini è un altro preparatore di livello internazionale, con esperienze in Italia, in Europa, a livello di nazionale, a livello di NBA. Un altro delle persone importanti, secondo me, nel nostro movimento, che assieme, come vi dicevo prima, a Gigi Sepulchi e ad altri, ha dato impulso a tutto il percorso di formazione per i preparatori. ho letto questa frase sua, che è abbastanza, anche questa, significativa, che è perché facciamo le cose. Allora, io penso che al centro di tutto quello che facciamo debbano esserci i nostri giocatori. anche qui sembra scontato, ma non è così, perché secondo me avere l'idea che a livello di programmazione, a livello di scelte, i giocatori, parlo di attività giovanile, che debbano essere al centro della nostra attività e tutto debba essere fatto in funzione dei nostri giocatori e del loro miglioramento, appare scontato, ma in realtà non lo è. Perché qualche volta dobbiamo, secondo me, farsi un esame di coscienza in maniera molto serena e ragionare se quello che stiamo facendo è più utile a noi come allenatori o ai ragazzi che abbiamo in palestra. Alcuni dei concetti che cerco di trasmettere sempre è che noi alleniamo i giocatori prima che le squadre, più che le squadre. La nostra attenzione è focalizzata sul singolo giocatore, un po' più che sulla squadra. Il concetto di squadra è importante, perché dal punto di vista formativo i ragazzi devono avere l'idea che la squadra è importante, perché il nostro è uno sport di squadra. E questo è quello che dobbiamo trasmetterlo, ma quello che dobbiamo sapere noi è che, per quanto riguarda l'attività giovanile, il singolo giocatore per noi deve venire prima, deve venire prima della squadra e quindi dobbiamo fare il meglio, scegliere il meglio per ogni singolo giocatore. Banalmente, non voglio fare degli esempi veramente troppo sempliciotti, ma se per un giocatore della mia squadra il contesto di allenamento non è più sufficiente, non è più sufficientemente stimolante, deve essere naturale che questo ragazzo debba fare attività, ad esempio, con i ragazzi più grandi. Quindi, in questo senso, il giocatore non è il mio giocatore, e il giocatore della società, per il quale io ho il compito di trovare, diciamo, giorno per giorno la cosa migliore per quello che è il suo bene. E se il suo bene è privarmene, perché quello che gli posso dare io in quel momento non è più sufficiente, allora dobbiamo decidere assieme che è bene che faccia qualcosa di diverso o qualcos'altro. Non perché io non sono capace, perché, ripeto, gli esempi possono essere di tanti tipi, però il concetto è che il giocatore non è dell'allenatore, anzi, noi allenatori siamo, passatemi il termine, al servizio dei nostri giocatori. Faccio riferimento, ovviamente, all'idea di sviluppo e di formazione. I nostri giocatori, in cambio, devono sapere che tutto questo non è gratis, cioè tutta questa attenzione che noi dedichiamo loro se la devono guadagnare e meritare giorno dopo giorno. Ma questo è un discorso completamente diverso. Allo stesso modo, a un certo punto, è inevitabile che i giocatori migliori del settore giovanile debbano confrontarsi con un contesto segno, perché se sono i migliori del settore giovanile, a un certo punto l'attività giovanile per loro non sarà più stimolante o sufficiente. Questo è un concetto, anche per un'idea, mi rendo conto, banale, che però comporta delle conseguenze. E con queste invece ci dobbiamo confrontare. Qual è la conseguenza? Che l'attenzione che noi possiamo dedicare individualmente in ambito giovanile al singolo giocatore è sicuramente diversa, necessariamente diversa, da quello che poi succede quando il giocatore viene inserito a prova, viene coinvolto con una squadra d'assegno. Allora, a questo punto, è importante che le idee siano chiare e la responsabilità, che tutti abbiano senso di responsabilità nei confronti di questo ragazzo. Chi lo segue a livello giovanile e chi lo segue a livello segno. Questa cosa non è... Chi opera quotidianamente in questo senso, lo sa benissimo, non è scontata, semplicemente perché non è facile, richiede molto impegno, però è un impegno che penso che sia dovuto. Anche, torno al discorso di prima, banalmente la prima differenza che un ragazzo affronta nel passaggio da giovanile senior, ma questo poi ne parleremo anche dopo, è riferito alla possibilità di sbagliare. La possibilità, il margine di errore, la possibilità di sbagliare a livello senior è molto più basso, inevitabilmente, che a livello giovanile. E quindi anche su questo, poi, insomma, anche questa è una cosa che va gestita con visione e con senso di responsabilità. Adesso voglio portare brevemente a vostra attenzione su alcuni aspetti, uno proprio l'aspetto educativo, nel senso più ampio del termine. Allora, questa è una frase di quelle motivazionali, che, insomma, bella, delle quali sentiamo, insomma, sono pieni anche i social, ed è ovviamente indiscutibile. Però noi abbiamo a che fare con dei ragazzi giovani e secondo me ci sono alcuni concetti che non sono negoziabili. La scuola viene prima, dal mio punto di vista, per tanti motivi. Uno, per senso di responsabilità, perché noi abbiamo a che fare con degli studenti atleti, che sono prima studenti e un pochino dopo, poco dopo, atleti, ma non è tutto studenti. Due, perché penso che per quanto un ragazzo faccia attività sportiva agonistica di alto o di altissimo livello e che richiede un impegno alto o altissimo, l'idea, il concetto di normalità deve sempre rimanere. E quindi è normale che un adolescente, che è un ragazzo in età scolare, è normale che vada a scuola e studi, che si applichi, che sia impegnato con la scuola. Ma in maniera anche un po' più utilitaristica, perché penso che i ragazzi debbano essere adiquati ad affrontare gli impegni. E penso, temo, che, anche qui ritorno al concetto di responsabilità, se un ragazzo non è in grado, non viene messo nelle condizioni di potersi assumere delle responsabilità nei confronti della scuola, di prendersi, di affrontare gli impegni che la scuola propone, mi viene, mi rimane il dubbio, mi viene la paura che poi, allo stesso modo, lo stesso ragazzo non sarà in grado di prendersi la responsabilità e di affrontare gli impegni sul campo. Perché una responsabilità è una responsabilità, mi impegno, mi impegno, a prescindere che sia una verifica, o che sia un tiro libero importante, o che sia la difesa che decide, l'azione difensiva che magari decide la partita. Questo, secondo me, è molto importante. E di conseguenza, dobbiamo fare tutto il possibile per aiutarli, per rendere compatibili le due attività, ma l'attività sportiva non può essere a scapito dell'attività scolastica. Allo stesso modo, la salute viene prima, perché è importante che l'attività che proponiamo ai ragazzi rimanga un'attività formativa e di sviluppo, non deve diventare un'attività usurante sotto nessun punto di vista fisico o anche mentale. Dobbiamo aiutare i ragazzi, dobbiamo, come dicevamo prima, metterli nei condizioni di poter affrontare gli impegni, però il settore giovanile non è il campo di addestramento dei Marines, è l'attività sportiva giovanile che deve preservare l'integrità dei ragazzi sotto tutti i punti di vista, ripeto, a partire da quella fisica, quella mentale e quella scolastica. Secondo me, ribadisco, sono aspetti non negoziabili. Legato a questo c'è un aspetto con il quale purtroppo ci confronta regolarmente, che è quello degli infortuni, che secondo me merita un breve cenno. uno, perché legandoci a quello che ho appena detto, dobbiamo fare tutto il possibile per prevenire gli infortuni, e prevenire gli infortuni sia con attività specifica, quindi lavoro fisico, ma anche con l'attenzione nel dosare i carichi e nel dosare le richieste. Non ho una statistica più troppo, forse sarebbe poco come farla, ma diciamo che la percezione della percentuale di ragazzi che approcciano, no, scusate, la percentuale di giocatori di interesse, cioè di ragazzi di alto livello, che nel momento in cui approcciano, cominciano ad essere verso la fine del percorso giovanile, approcciano impegni con la prima squadra e devono tenere assieme impegni con la prima squadra, impegni con il settore giovanile, impegni magari con le nazionali giovanili. Ecco, secondo me la percentuale di infortuni anche importanti su questa tipologia, su questa fascia di ragazzi non è rilevante. Quindi a maggior ragione serve molta attenzione nel momento in cui si programma l'attività per un ragazzo, a maggior ragione se è un ragazzo di interesse. Quindi questo è a livello di prevenzione. Poi gli infortuni purtroppo capitano, non sono eliminabili completamente. Allora, secondo me anche qui serve serve molta attenzione perché non vogliamo, ovviamente, non c'è nessun motivo ragionevole per forzare i tempi di recupero per un ragazzo a reddice per un infortunio. Allo stesso tempo però dobbiamo fare in modo che il ragazzo venga seguito nel migliore dei modi perché ogni infortunio è il tempo che noi sottraiamo alla preparazione del ragazzo, al suo sviluppo e alla sua preparazione. E quindi è importante che i tempi di recupero siano seguiti per quello che è nelle nostre possibilità col massimo delle risorse e col massimo dell'attenzione. Ok, questo non ha bisogno di commenti. Anche qui vorrei andare cerco di non dilungarmi perché qualcosa su questo ho già detto. C'è un momento in cui i ragazzi prima o poi che escono dal settore giovanile se se la meritano devono avere un'opportunità. Un'opportunità a livello senior. non è facile. Purtroppo penso, parere mio personale, che questo è il punto nel quale come movimento, come sistema pallacanesso siamo più carenti in questo momento perché le opportunità che i ragazzi giovani hanno a livello senior in questo momento non dipendono né purtroppo né dal loro merito né dalla programmazione ma in tanti troppi casi dipendono dal caso. Scusate per la ripetizione. In troppe situazioni dipendono, vengono lasciate al caso. per cui abbiamo alcuni esempi o meglio per alcuni esempi virtuosi che abbiamo ce ne sono tanti di ragazzi che non hanno non hanno opportunità o la dico in maniera brutale non hanno la possibilità di continuare il percorso di formazione. Banalmente non hanno la possibilità di continuare ad allenarsi in maniera adeguata per quello che sarebbe richiesto in quel momento che sarebbe necessario in quel momento per proseguire completare la formazione del ragazzo. Non ho non è questo non è questo il il momento non è questo di qual fare questa cosa qui ma è una cosa che in tutta coscienza mi sento di voler lanciare perché penso che sia un tema sul quale tutti dovremmo e dovremmo inevitabilmente confrontarci su come gestire questo passaggio da giovaniglia senior che meriterebbe meriterebbe un altro livello di di programmazione e di consapevolezza mi fermo diciamo che un altro aspetto da tenere in considerazione è che nel momento in cui un ragazzo non solo approccia la triva senior ma magari comincia ad ottenere i primi risultati positivi a livello senior ecco questo necessariamente genera una un aumento delle aspettative e quindi della pressione del ragazzo del carico del ragazzo che va tenuto in considerazione non è facile e anche qui questa cosa andrebbe gestita andrebbe controllata andrebbe prevista andrebbe programmata non sempre secondo me lo facciamo lo facciamo nel modo migliore per quanto ci sforziamo per noi ci sforziamo di ci sforziamo di farlo abbiamo parlato tanto fino adesso di opportunità e bisogna che i ragazzi abbiano anche i ragazzi vengano dati delle opportunità bisogna che loro si impegnino per esserne per meritarsene per esserne all'altezza penso che una certa idea di protezione e di gestione però in questa fase ancora vada mantenuto è un argomento complesso che meriterebbe un approfondimento diciamo apposta chiamiamolo così non vorrei essere noioso o sediare però ritorno su alcune cose o meglio sottolineo alcune cose che ho già provato che ho già provato a sforo io penso che come allenatori è quello che parlando con colleghi anche più giovani cerco di riportare sempre come allenatori noi dobbiamo è giusto è corretto che noi abbiamo dimostriamo passione e ambizione l'ambizione è necessaria perché è quello che ci spinge costantemente ad andare avanti la passione però è quello che fa in modo che la nostra ambizione non sia fine non sia fine a se stessa la passione è quello che veramente ci fa fare le cose nel modo giusto assieme al senso di responsabilità noi facciamo anche qui ritorno su questo facciamo attività giovanile dobbiamo essere di esempio per i nostri ragazzi nel promuovere nell'accendere anche in loro ambizione e passione dobbiamo avere però un senso di equilibrio e soprattutto un senso di responsabilità che non ci fa mai mai perdere di vista chi è chi deve essere al centro di quello che facciamo non siamo noi ma sono necessariamente a livello giovanile i nostri i nostri ragazzi bene allora concludo concludo scusate con con alcune citazioni che concludo questa prima parte con alcune citazioni che mi hanno colpito e che mi fa piacere riproporti la prima è di Messina diciamo che quando espresse questa idea spiegò spiegò che intendeva dire che per affrontare per studiare la matematica è necessario partire prima dalle operazioni elementari e poi man mano salire dalle quattro operazioni elementari procedere salire di livello mentre per quanto riguarda la musica anche chi non è esperto di musica è in grado di riconoscere se se qualcosa è armonico oppure no e allo stesso modo per giocare a pallacanestro non è necessario essere esperto di pallacanestro diciamo che un'idea di che cosa ha senso su un campo di pallacanestro di che cosa funziona di come si possa giocare a pallacanestro lo si può avere anche prima di essere diventati esperti dal mio punto di vista interpreto questa idea come come l'idea che nell'insegnamento della pallacanestro il nostro lavoro non è come quello dei dei muratori che costruiscono una casa partendo dalle fondamenta anche se noi abbiamo il concetto dei fondamentali ma partendo dalle fondamenta per poi arrivare al tetto vedono la nostra attività a livello giovanile più come quella degli scultori che man mano da una cosa che è una forma ancora non ce l'ha man mano raffinano e scavano e riescono progressivamente successivamente a dare una forma che è sempre più precisa e sempre più raffinata questa è un po' la mia idea di come insegnare il pallacanestro il livello giovanile e visto che noi tutti a prescindere dal livello lottiamo contro il tempo cioè non abbiamo mai tempo sufficiente per fare tutto quello che vorremmo l'idea di non allenare le eccezioni cioè di non allenare le cose che potrebbero ipoteticamente succedere ogni tanto ma allenare le cose che succedono spesso che succedono sempre penso che possa essere di aiuto anche qui per quello che facciamo questa è una citazione che si trova nel film il vivo e secondo me riassume la ripeto sempre ormai rischio di essere anche abbastanza ridicolo però insomma veramente secondo me riassume quello che è il nostro il nostro compito la nostra attività come allenatori nel senso che dobbiamo avere la capacità di avere tutto sotto controllo di vedere essere consapevoli di tutto quello che succede dobbiamo vincere l'istinto di andare a intervenire immediatamente su tutte le cose che vediamo perché nella nostra testa ci deve essere una priorità ed è importante che abbiamo chiaro che cosa deve essere aggiustato prima che cosa deve essere corretto prima qual è l'intervento da fare prima e poi man mano quelli che possono essere gli interventi e le correzioni successive una alla volta come è riportato di conseguenza qui i due personaggi sono due critici d'arte uno molto importante e uno importantissimo parlando di opere d'arte hanno espresso questo concetto e penso che però valga per tutto e valga anche per la palla canestra se io vedo se io vedo un'opera d'arte vedo delle cose quando cominciano a spiegarmi qualcosa in merito a quell'opera al periodo storico al contesto cosa c'è stato prima cosa c'è stato dopo allora comincio a vedere delle cose in più allo stesso modo guardando una partita guardando uno dei nostri allenamenti guardando quello che fa uno dei nostri giocatori più io sono preparato più cose riesco a vedere e quindi è importante che noi continuiamo costantemente a studiare e a prepararci per essere all'altezza di quello che intendiamo fare passiamo adesso in maniera un po' più specifica a quella che è un'idea di programmazione tecnica a livello giovanile allora la premessa doppio è che questa progressione è veramente puramente non voglio dire ideale ma indicativa perché poi parlo specialmente del riferimento alle squadre alle fasce d'età diciamo così perché in realtà per coerenza rispetto a quello che abbiamo detto fino adesso noi dobbiamo valutare situazione per situazione a che punto siamo con con le nostre squadre ma squadre intese come insieme di individualità di singoli giocatori ognuno dei quali sarà necessariamente inevitabilmente a uno stadio diverso del proprio percorso del proprio sviluppo della propria formazione e quindi come sempre la parte difficile ma anche più bella del nostro lavoro è decidere capire quando andare avanti quando ripetere o quando è necessario fare un passo indietro rispetto a quello che nella nostra testa è un'ipotetica programmazione penso che sia così per tutte le attività di insegnamento necessariamente diciamo che sempre parlando in generale noi interveniamo su diverse aree di sviluppo che per comodità nostra distinguiamo quando noi diciamo parliamo di tecnica di sviluppo tecnico o tattico quando parliamo di sviluppo fisico quando parliamo di sviluppo dal punto di vista mentale cioè di capacità di concentrazione capacità di attenzione capacità cioè comprensione del gioco ripeto questa distinzione è per comodità nostra ma in realtà nei fatti nei nostri giocatori questa distinzione non c'è il miglioramento dei nostri giocatori passa in modo integrato attraverso questi aspetti perché per migliorare un gesto tecnico necessariamente devo migliorare il controllo del corpo dal punto di vista motorio per migliorare un aspetto tattico necessariamente passo da devo passare da miglioramento dal punto di vista mentale perché devo imparare a riconoscere una situazione nuova una situazione in più quindi questo secondo me è importantissimo da tenere presente noi la distinzione che facciamo dal punto di vista tecnico fisico mentale è per noi per comodità nostra di trattazione in realtà quello che succede sono aspetti che nella realtà non possiamo mai separare mai disgiungere e lì dobbiamo sempre tenere presenti in modo globale ripeto di conseguenza per me lo sviluppo del giocatore si può esprimere anche con il fatto che cerchiamo di migliorare il controllo della palla il controllo del corpo e il controllo delle situazioni che è un altro modo per dire le stesse cose e parlando di programmazione allora è vero che la teoria ci dice che dovremmo programmare sempre tutto ed è così è chiaro che poi la realtà ci pone di fronte a delle situazioni quindi banalmente se fino a livello under 17 è scontato è normale pensare di programmare in maniera abbastanza precisa l'attività precisa passatemi il termine non è occusa perché poi tutti i nostri programmi tutti i programmi che facciamo tutto il nostro essere proattivi va poi verificato costantemente sul campo dobbiamo vedere se quello che noi avevamo ipotizzato si sta realizzando oppure no perché ripeto come vi ho detto se non si sta realizzando forse è il momento di fare una pausa una ripetizione o un passettino indietro quando le cose vanno come ci stiamo aspettando allora quello è il momento per raggiungere qualcosa e per andare oltre è chiaro che per quella che è la mia esperienza ma penso che sia quella di tanti altri poi quando si comincia a ragionare a livello under 19 c'è l'ultimo gruppo quello più estremamente legato alla prima squadra diventa oltre che essere proattivi diventa importante anche essere reattivi perché noi l'attività diventa molto meno programmabile perché come ci siamo detti è più in funzione un po' più in funzione delle esigenze della prima squadra e quindi non sempre queste esigenze naturalmente si possono programmare perché dipendono da tante cose purtroppo anche dai discorsi infortuni che è la cosa meno programmabile del mondo l'importante è che noi non perdiamo di vista l'obiettivo e quindi dobbiamo essere bravi a essere reattivi man mano che le situazioni cambiano ad aggiustare anche in corsa quello che è il nostro programma quello che è il nostro il nostro percorso formativo e didattico per comunque non perderci mai quello che sta succedendo con un singolo con un singolo giocatore con un singolo ragazzo nello specifico come vedete per quanto riguarda l'attacco più sono piccoli più sono giovani più l'attività è di tipo globale la specializzazione non la specializzazione scusate la parte più analitica specializzazione è un'altra cosa la parte più analitica cresce con il crescere dell'età anche qui facciamo delle distinzioni teoriche perché dipende in quel momento qual è argomento per argomento momento per argomento qual è il nostro obiettivo banalmente un tre contro tre è una situazione che globale se noi la prendiamo in considerazione dal punto di vista del punto di vista dell'utilizzo dei fondamentali per esempio diventa analitica se noi in quel momento serve dal punto di vista delle letture della comprensione del gioco dell'analisi di una determinata situazione evidentemente per quanto riguarda la difesa ecco secondo me anche questa cosa qui può essere un concetto semplicistico in realtà per me è molto importante inevitabilmente penso che il miglioramento lo sviluppo dei nostri giocatori passi attraverso quello che sono in grado di fare in attacco con la palla e ovviamente senza la palla ma l'attacco ha sempre viene sempre privilegiato in quello che è il nostro programma formativo la difesa c'è la difesa ci deve essere però ci sono due aspetti uno penso che la difesa sia più facile da insegnare o meglio i risultati per raggiungere determinati risultati dal punto di vista di difensivo ancora molto meno tempo rispetto a quello che serve per ottenere gli stessi risultati dal punto di vista del miglioramento per quanto riguarda un fondamentale o una situazione di attacco ci deve essere è importante è importante soprattutto dal punto di vista dello sviluppo anche delle qualità morali dei nostri ragazzi perché la difesa è necessariamente sacrificio sacrificio per la squadra sono concetti che devono arrivare però non può essere la cosa la quale noi dedichiamo di tempo specialmente quando sono più giovani o più tipo per cui questo è un po' quello che nella proporzione tra lavoro dedicato all'attacco e alla difesa visto che poi la troverete indicazioni per quanto riguarda l'attacco e difesa però deve essere chiaro la percentuale allora attacco qui non sto a leggervi tutto vi do alcune spiegazioni ribadisco più sono più sono giovani più sono piccoli più secondo me le stesse proposte devono essere fatte in modo globale e variabile cioè noi lo stesso movimento lo stesso gesto dobbiamo cercare di proporlo in modo più ampio possibile di situazioni e di variabilità perché qui penso che lo sviluppo motorio dei ragazzi abbia ancora una una sia ancora da privilegiare lavoriamo abbastanza sul sovranuro sovranuro metà campo come stimolo e come incentivo ha fatto banalmente di passarsi la palla perché veniamo da categorie dove il passaggio sicuramente non è privilegiato rispetto al palleggio per esempio invece qui vogliamo cominciare a mettere enfasi sull'idea del passaggio di passarsi la palla e chiaramente giocare in sovranumero ci aiuta tantissimo a farlo e di conseguenza a farlo giocando su tutta la lunghezza del campo quindi con l'idea di scappare in contropiede di lanciare i compagni in contropiede di giocare in sovranumero in contropiede per quanto riguarda l'under a livello under 15 cominciamo magari a dare indicazioni qui sì un pochino più analitiche sulla gestione del contropiede a tre cominciamo a lavorare sull'uno contro uno con e senza palla sulle situazioni visto che lavoriamo sull'uno contro uno cominciamo a dare qualche indicazione su come è opportuno metterci sulle penetrazioni non tanto ecco qui vorrei chiarire il concetto di posizionamento non è tanto geografico cioè riferito alle posizioni sul campo ma è più riferito in in riferimento in relazione a quello che fa il mio avversario quindi per mantenere l'idea di uno contro uno in questo caso senza palla quindi succede qualcosa il mio compagno gioca uno contro uno il mio avversario reagisce in qualche modo e di conseguenza io reagisco a quello che sta facendo il mio avversario diretto quindi il posizionamento è legato a quello che succede e alla distribuzione dei giocatori sul campo non è in questo momento un concetto geografico cioè legato alle posizioni sul campo alle righe sul campo mettiamo la cosa se abbiamo la fortuna come speriamo di avere dei lunghi cerchiamo di cominciare a coinvolgerli se devono essere coinvolti se sono già in grado di di cavarsela da soli di essere protagonisti da soli tanto meglio se torniamo al discorso di prima sono i classici ragazzi quindi quindi dal punto di vista motorio dobbiamo provare applicare qualche strategia per dare opportunità anche a loro e quindi coinvolgerli in qualche modo e cominciamo a proporre situazioni con i di gioco con i contatti per quanto riguarda la difesa allora se vedete a livello under 14 under 15 rimaniamo sul concetto di responsabilità individuale fino a livello under 14 stimoliamo un po' di più l'aggressività livello under 15 cominciamo un pochino a dare l'idea di equilibrio tra le tante cose che ho cominciando tanti anni fa e queste quelle di tanti anni fa ma arrivando fino fino a oggi per tante cose che ho imparato da Giordano Consolini questa è una di quelle che per prima mi ha colpito di più perché venivo dalla scuola di difesa non cercare la palla perché non vogliamo essere battuti anche questo Giordano su questo concetto mi ha veramente mi ha acceso la luce perché l'idea è che poi ho sposato pienamente è quella di finché possiamo cerchiamo di assecondare stimolare sviluppare la naturale aggressività dei ragazzi e quindi l'idea di provare a rubare la palla in difesa è importante perché l'idea della difesa a livello giovanile non può essere quella del contenimento ma deve essere quella di provare a fare qualcosa per spingere per indurre il nostro avversario a un errore per recuperare prima la palla prima possibile per di conseguenza andare in attacco perché ci divertiamo di più in attacco che non in difesa quindi l'idea di lasciare spazio all'inizio di lasciare ampio spazio non solo ma di stimolare l'aggressività è un concetto importante perché come potete vedere passare da un'idea di aggressività a una progressiva poi successiva idea di equilibrio è una cosa tutto sommato semplice da ottenere il contrario mi sono reso conto che è abbastanza impossibile da ottenere se 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 li abbiamo abituati da piccoli con l'idea di stare in equilibrio per non farsi battere e di non essere aggressivo questo istinto difficilmente potrebbe essere sviluppato in una seconda fase posizionamento difensivo verticale banalmente se la palla sta andando in attacco e il mio avversario senza palla non sta andando in attacco è inutile che io sia con lui ma sarà meglio che cominci ad andare sotto la linea della palla questo è un concetto che a livello del 14 si può dare vi ho messo un segnale di attenzione sul discorso dei raddoppi a metà campo perché come vedremo poi anticipo già allo stesso modo come la difesa tutto campo tipo run and jump e o con i raddoppi diciamo che sono due tipologie di difese che hanno una valenza hanno un senso perché ad esempio ci aiutano a sviluppare la una la capacità di anticipazione due la comprensione di dove posizionarsi sul campo in base a quello che sta succedendo e quindi sono concetti molto importanti rischiano se usate come come sistema diciamo così entrambe di diventare difese speculative perché una specula sullo scarso controllo di palla dei ragazzi a quest'età l'altra quella con quella tutto campo specula sulla scarsa capacità sulla scarsa capacità a causa della mancanza di forza di fare passaggi lunghi da tutto campo e quindi usate come sistema diventano una difesa speculativa che al di là di considerazioni più o meno morali banalmente non ci aiuta perché ci fa perdere di vista il concetto di responsabilità individuale senza ottenere niente in cambio invece usate ogni tanto usate spot e ripeto con un obiettivo in certe situazioni con obiettivi ben precisi ci possono aiutare ad aggiungere qualche strumento al bagaglio dei nostri ragazzi di significativo per quanto riguarda la difesa under 15 può essere diciamo merita un ragionamento sull'introduzione della difesa della difesa sui blocchi che magari non utilizziamo in attacco ma su quali dobbiamo essere pronti a non farci trovare impreparati se viene proposta dagli avversari diciamo che vorremmo in questo caso che questa questa introduzione fosse semplicemente la naturale diciamo così conseguenza dei concetti che abbiamo dato sul posizionamento difensivo normale ecco che la capacità di dipendere sui blocchi diventi naturale conseguenza di quello che abbiamo fatto fino a quel momento sul posizionamento difensivo e non qualcosa di speciale contro una situazione speciale diciamo allora 17 per quanto riguarda l'attacco la cosa più importante penso sia questa cioè cominciamo a fare dei ragionamenti abbiamo detto noi nella nostra testa o anche non nella nostra testa in maniera condivisa magari anche formalizzata e scritta per ogni giocatore dobbiamo avere un'idea di quello che è un progetto su quello che è l'ipotesi di sviluppo individuale diciamo che a livello dell'anno 17 dobbiamo cominciare a fare delle verifiche da questo punto di vista cioè se le ipotesi che avevamo fatto si stanno realizzando se siamo a livello di ipotesi siamo stati troppo ottimisti quindi forse c'è da fare qualche ragione a me o se siamo magari stati abbiamo tenuto l'asticello un po' bassa invece magari c'è un ragazzo che sta andando bene oltre le aspettative quindi a quel punto comunque la maggior ragione dobbiamo aggiustare quello che era l'ipotesi di percorso e di progetto per lui ecco questo è il momento in cui cominciamo a fare questi ragionamenti cominciamo a dare qualche idea in più sul contropiede cominciamo a ragionare su come occupare in maniera un po' più definita le posizioni anche le posizioni interne giochiamo su tutta la larghezza del campo significa che banalmente cominciamo perché la forza dovrebbe cominciare a permetterci di farlo ad utilizzare anche i passaggi skip per esempio e di conseguenza anche cominciamo in questa fase a ragionare sull'attacco alla zona se riteniamo per qualsiasi motivo che dobbiamo cominciare a dare dei concetti particolari per l'attacco alla zona e non ci accontentiamo più come invece utile e positivo fare continuare ad attaccare con gli stessi con le stesse idee gli stessi concetti a prescindere che stiamo affrontando una difesa uomo e una difesa zona nel senso che se i nostri concetti fanno riferimento al posizionamento dei difensori sul campo potremmo anche non averne bisogno ci sono situazioni particolari nelle quali può essere utile cominciare a dare qualche invece idea specifica per quanto riguarda l'attacco alla zona attacco al pressing nel caso in cui abbiamo qualche ragazzo un po' particolare per il quale dobbiamo usare delle accortezze particolari per cui per aiutarlo o per stimolarlo possiamo cominciare a pensare a situazioni un po' più organizzate utilizzo dei blocchi concetti specifici per attaccare il pressing o la zona in generale vedete anche qui l'introduzione dei blocchi anche sulla palla è una cosa che non vogliamo usare di sistema under 17 ancora le priorità sono altre ma se il livello dei ragazzi lo consente o lo richiede può anche darsi che è plausibile che sia il momento per cominciare a introdurre anche qualcosa su questi argomenti come sempre tutto sta poi nel peso che diamo a questi argomenti quanto tempo dedichiamo e quanta attenzione dedichiamo per quale motivo lo facciamo diciamo non è una priorità a questo livello però cominciamo a farlo qui di interessante dal mio punto di vista potete leggere insomma non penso di commentare necessariamente ogni cosa l'interessante secondo me è la difesa sui blocchi lo spiego cominciamo a dare concetti per la vita sui blocchi ma i concetti rimangono funzionali a quello che ci serve per procedere nello sviluppo individuale nella formazione dei ragazzi cerco di essere più chiaro cosa fare su un blocco non dipende dalle caratteristiche del mio avversario perché c'è quello che che tira quello che va a sinistra quello che va a destra o meglio ci possono essere scelte tattiche individuali del singolo giocatore che ha capito cosa sta succedendo ha capito che l'avversario vuole fare una cosa in particolare e queste non solo le come dire non le non le evitiamo queste le vogliamo stimolare perché quello che dicevamo abbiamo detto prima parlando della capacità di risolvere dei problemi quindi se un giocatore si prende un'iniziativa un senso di responsabilità perché ha capito che sta per succedere una cosa questa è una cosa che noi vogliamo apprezzare e vogliamo stimolare però diciamo che in generale le scelte difensive sui blocchi sono sono date dall'idea di rimanere sui concetti quindi se magari se un blocco è un blocco è portato abbastanza vicino dove è la palla e sul quarto di campo dove è la palla magari può essere il concetto può essere quello di inseguire per costringere per ridurre lo spazio e la disposizione degli attaccanti questo è un concetto generale che può avere una validità se un blocco è sul lato sul lato debole magari passiamo in mezzo perché la regola è che è lontani dalla palla stiamo lontani dall'avversario quindi è abbastanza normale uno passaggio come conseguenza della regola che abbiamo dato fino adesso quindi tagliare il blocco due perché comunque anche se vogliamo usare un concetto un po' più tattico questo dilata maggiormente eccessivamente probabilmente gli spazi per l'attacco e quindi vanifica quello che vuole fare l'attacco però insomma diciamo tutto tranne che preoccuparci di fare di fare scelte che riguardino quello che fanno le caratteristiche individuali degli avversari ad esempio sul blocco sulla palla possiamo scegliere di cambiare se in questo momento se in quel momento per noi è prioritario alzare il livello cioè proporre delle difficoltà ulteriori ai nostri dal punto di vista difensivo quindi fuori un problema da risolvere ai nostri ragazzi in difesa perché se c'è un blocco sulla palla diciamo che immagino che ci sia una differenza in qualche modo di di smezza come si dice perché altrimenti non si capisce l'utilità da parte dell'attacco di fare un blocco sulla palla e quindi se c'è questa differenza tra i nostri difensori il fatto di cambiare su un pick and roll comporta che magari il nostro ragazzo un po' più alto si trova nella condizione di dover muovere i piedi per difendere uno più piccolo il nostro il nostro difensore un po' più piccolo si trova nella nella condizione di dover muovere i piedi per passare davanti a un giocatore più grosso di lui dentro l'area e quindi è possibile è plausibile che la scelta di cambiare ci aiuti perché come dicevamo propone un piccolo problema ai nostri ragazzi da risolvere di difficoltà un po' più alta o diverso da quello che fanno normalmente oppure se possiamo decidere che ad esempio quando quando gli avversari giocano un blocco sulla palla raddoppiamo perché in questo momento in quel momento ci interessa lavorare un po' di più sulla capacità di anticipazione e sul posizionamento difensivo perché dopo se raddoppiamo la palla gli altri nostri difensori devono giocare tre contro tre contro quattro e quindi devono decidere devono capire aiutati da noi ma lo devono fare loro dove è più conveniente dove è più opportuno mettersi in base a quello che sta succedendo in base a dove sono gli avversari in base a come è fatto il raddoppio in base all'atteggiamento dell'attaccante che ha la palla e che viene raddoppiato i motivi possono essere tanti ma diciamo che le scelte rimangono ancora legate a quelli che sono i nostri obiettivi formativi ecco l'anno 19 è un po' il il completamento del della 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 formazione giovanile e di conseguenza cominciamo qui per noi è l'inizio dell'attività di specializzazione individuale come viene normalmente interpretata e cominciamo ad avvicinarci a quello che è la la palacanestra del segno anche qui come concetto questo è questa è l'ipotesi tanto per chiarire una nostra squadra Andrea 19 non inizia la stagione facendo queste cose magari se va bene finisce la stagione facendo queste cose però non è che iniziamo la stagione facendo proprio perché questa è la fine di un percorso quindi magari distinguiamo tra quello che è il primo quadrimestre e il secondo quadrimestre esattamente come come se fossimo a scuola e buona parte di queste cose magari vengono proposte quelle più più complesse vengono proposte nel secondo quadrimestre quindi veramente alla fine del percorso giovanile anche perché dobbiamo tener conto del fatto che una squadra Andrea 19 in una squadra Andrea 19 non ci sono tutti i ragazzi alla fine del percorso giovanile perché magari ci saranno quelli dell'anno forte che sono alla fine del percorso della mia quelli dell'anno debole no tra l'altro quelli dell'anno forte probabilmente saranno già impegnati con la prima squadra quindi avranno modo di affrontare questi argomenti con la prima squadra quindi probabilmente può anche essere che non serva che come squadra come attività giovanile come settore giovanile dedichiamo così tanto tempo a queste cose perché come sempre poi dipende su ogni argomento non è tanto se lo affrontiamo o non lo affrontiamo ma quanto tempo ci dedichiamo e con che obiettivo soprattutto bene io avrei avrei finito di nuovo un ringraziamento al CNA e a tutti i colleghi di serati per il per il per il CNA specialmente a quelli che sono arrivati che hanno avuto la pazienza di arrivare in fondo fino a questo punto in fondo a questo intervento qui potete vedere i miei i miei riferimenti se qualcuno ha piacere voglia necessità di chiedere qualche chiarimento o fare commenti o qualsiasi cosa saranno specialmente i commenti e indicazioni saranno molto utili prima di salutare un ringraziamento in particolare a Monica Lenti del CNA che si è occupata della parte diciamo più organizzativa e a Gianmarco Di Matteo che mi ha dato una rossa mano invece dal punto di vista proprio pratico e tecnologico per la realizzazione dell'intervento grazie ancora a tutti a presto un abbraccio grazie a tutti grazie a tutti